La verifica dei documenti firmati ti consente di verificare la validità legale del certificato. In particolare, ti permette di accertare l'integrità della firma, il rispetto della deliberazione CNIPA 452009, l'affidabilità del certificato, la sua validità legale e la non-revoca del certificato. Avvia l'app. Apri il documento per il quale desideri verificare la firma. Toccalo nuovamente per verificare le informazioni sulla validità della firma. Adesso, con Apri certificato, puoi visualizzare tutti i dettagli. La procedura per verificare la validità di una marca temporale è identica. Ti basta aprire il documento per il quale desideri verificare la marcatura, cliccandoci sopra. Selezionalo nuovamente e scorri la schermata per verificare le informazioni sulla validità della marcatura e, come prima, seleziona Apri certificato per visualizzare tutti i dettagli.